Una mattinata dedicata ai giovani che si preparano al matrimonio, o meglio a quelle dinamiche che la Chiesa italiana mette in campo per il cammino delle giovani coppie. E' quanto hanno vissuto i sacerdoti partecipanti al corso di approfondimento sulle tematiche della famiglia che si tiene in questi giorni al CUM di Verona. Sacerdoti che vengono da paesi lontani, ma che si apprestano a vivere il loro ministero a servizio delle nostre comunità in Italia. Come vede il successo di alcune proposte quando naturalmente si chiede anche molto ai giovani sul cammino in preparazione al matrimonio? Io vedo quello che mi sono sentito dire da quando ero giovane io 30 anni fa, che quando si mostra la bellezza e la praticabilità di una strada, anche se impervia, il giovane è affascinato. E dunque, ad esempio nel corso fidanzati che svolgiamo nella nostra parrocchia, la proposta bella alta del matrimonio in Cristo di fatto affascina. E se anche se ne vedono le difficoltà, le asperità, proprio per quel che dicevo prima, per la presenza di Cristo Signore, sposo della Chiesa, nella coppia degli sposi, ecco che questo percorso, come una camminata in montagna, più è impervia, più ti affascina, più ti prende. Dunque, non per il gusto delle cose difficili, ma per il gusto delle cose belle, sapendo che sono praticabili. Questo è il tipo di proposta che facciamo, senza sconti, però anche con tanta misericordia e tanta gioia di poter annunciare il piano di Dio sull'uomo e sulla donna, così come la Divina Rivelazione ce lo mostra. Per sacerdoti che arrivano da culture e situazioni molto diverse dalla nostra, il conoscere proposte e cammini già in atto nella Chiesa italiana diventa quanto mai importante, soprattutto anche alla luce dell'interesse crescente dimostrato dalla Chiesa universale, ed il prossimo sinodo ne è una conferma. Cosa potrà dirci e quanto potrà aiutarci su un cammino come quello che già state percorrendo in tanti sacerdoti per quanto riguarda la formazione delle nuove famiglie? Sì. Io mi permetto di pensare di non sapere cosa il sinodo produrrà, perché credo che se un sinodo ha senso deve celebrarsi e dunque che lì accadrà qualcosa. Questo è il motivo per cui preghiamo, per cui è stata indetta una veglia di preghiera, per cui accompagniamo i padri sinodali con tanta speranza, ma soprattutto quello che possiamo fare è tanta preghiera, perché appunto lì accada qualcosa rispetto alle grandi attese che ci sono intorno alla famiglia. Un rinnovato annuncio del Vangelo che riguarda la famiglia, anche se di materiale ne avremo già tantissimo, il sinodo certamente rilancerà, ma anche la discussione di tanti temi caldi che causano anche tante sofferenze e non occorre ripeterli, si sanno quali sono. Ovviamente io non so e non riesco neanche a immaginare cosa il sinodo produrrà, però credo che accadrà qualcosa, perché credo nello Spirito Santo, credo allo strumento sinodale e dunque non so io cosa decideranno loro, ma vorrei poterlo immaginare, ma so di non poterci arrivare, però credo che senz'altro avremo non risposte, ma indicazioni evangeliche, ecclesiali, con sempre maggior consapevolezza da parte di tutto il popolo di Dio, quindi dai Vescovi fino all'ultima vecchina, saper dare, riconoscere e promuovere alla famiglia quel ruolo di soggetto ecclesiale che è stato pensato nel piano di Dio. Grazie.